L'importanza di questa marcia proprio oggi è una giornata abbastanza nefasta? L'obiettivo che perseguiamo, per il resto sono cazzate, per il resto come fra un momento fa è pieno di fracazzi da velletri che sanno tutto e criticano tutto e non fanno un cacchio. Ci ho detto, invece io ho già indicato che come obiettivo possibile di avere a livello ONU come il massimo livello deliberante in termini con forza di legge, ritengo che potrà entro tre mesi, quattro mesi adottare il progetto, quello radicale dello Stato di diritto condiviso come la transizione verso lo Stato di diritto che è stato condiviso da molti Stati arabi anche della Lega araba e che ritengo potrà dare all'ONU una maggioranza al semestre italiano proprio come quello che adotta il problema dello Stato di diritto e quindi dell'eguaglianza di fronte alla legge che perciò deve essere difesa ed affermata e se vuoi così abbiamo assieme dato l'annuncio di quello che sicuramente ci sarà. Grazie Marco Prego, ciao Grazie a tutti